Si scrive inclusione, si legge Sportability e questo è stato il fil rouge che ha accompagnato questo ultimo anno le attività della Sport Project e che ha visto il suo epilogo il 19 dicembre presso la Sala degli Specchi del Comune di Bitonto, sede di una vera e propria festa di fine anno con immagini, video e presentazione finale di tutto il progetto. Un percorso pieno di iniziative volte all'inserimento sportivo dei ragazzi diversamente abili, frequentanti alcune scuole superiori bitontine e associazioni di città specifiche nelle attività di sostegno. Le attività sportive acquatiche sono state utilizzate non soltanto dal punto di vista salutare delle stesse ma anche per percorsi emozionali, sensoriali e motori. Soddisfatto il direttore tecnico della Sport Project, Lorenz Felequi, che con i suoi istruttori sempre presenti ha fornito un ottimo punto di riferimento per tutte le attività della piscina. La conclusione di eventi che sono partiti l'anno scorso, diciamo a fine dell'anno scorso, Natale Autentico, poi Risorse per Crescere che ha visto l'inizio del progetto dal mese di marzo-aprile ed è terminato diciamo poc'anzi con l'ultimo progetto che è l'Acquability che è iniziato a ottobre e termina esattamente nella giornata di oggi con l'assegnazione di tutti i diplomini per i ragazzi che hanno aderito al progetto. Hanno aderito all'iniziativa le scuole superiori Volta de Gemmis e Vitale Giordano e le associazioni Zip H, Poseidon Blue Team, Gruppo TMA, Una Finestra sul Blu, che attraverso i loro referenti hanno dato la possibilità a 53 ragazzi di vivere un anno a contatto con l'acqua. Quando l'amore, l'impegno e la professionalità aiutano a superare tutte le barriere ci sentiamo migliori. Perché hai pensato questa frase? Non lo so, non l'ho pensato a dire la verità. Sono quelle cose che escono diciamo così con l'amore. Io ricordo che la prima esperienza mia personale come istruttore di nuoto appunto è iniziato nel lontano 1992 presso il Cusbari con due ragazzi che avevano problemi di disabilità proprio di Bitonto. La mia carriera sportiva, diciamo quella anche di gestore di impianti sportivi, non ha mai tralasciato questo amore, questa passione. Pieno sostegno da parte del Comune di Bitonto che ha sposato appieno il progetto e ha contribuito in maniera corposa dal punto di vista economico all'ottima riuscita dell'evento, anche grazie all'impegno profuso dall'assessore Silvio Altamura, da sempre in prima linea nei progetti inclusivi. Il ruolo del Comune di Bitonto è stato fondamentale in collaborazione con le altre istituzioni della città come le scuole ma anche le associazioni in terzo settore perché noi abbiamo gli strumenti per leggere i bisogni del territorio e l'evoluzione di questi bisogni nel tempo e anche la responsabilità di costruire insieme alle persone risposte sempre più efficaci per fare vivere loro una vita piena, una vita felice.